Musica Mascherate, pupi, carri allegorici degli anni 60, 70 e 80 in immagini storiche ed esclusive della Kermesse, simbolo della città di Fano Coriando di colori, momenti di gioia, di allegria migliaia di persone in centro storico che cercano di prendere le caramelle gettate dai giganti di cartapesta Non mancano la musica arabita, le famose maschere di Arlecchino e Pulcinella presente la satira politica e addirittura un suggestivo spettacolo pirotecnico come da anni non si vede in città Un video che rientra nel progetto ideato e realizzato dallo studio del Bianco in collaborazione con Fano TV e dopo mesi di lavoro e di ricerca, giovedì 5 febbraio andrà in onda la seconda puntata di Viaggio nella nostra memoria Questa puntata sarà interamente dedicata al Carnevale di Fano abbiamo raccolto parecchi filmati inviati dalle persone che ringraziamo e assembleremo questa puntata interamente con immagini sul Carnevale di Fano Avete già dei progetti e delle idee anche per prossimi video? Nelle prossime puntate torneremo un pochino al tradizionale sul format della prima puntata cercheremo di assemblare tutto il materiale pervenuto e traceremo la storia recente della città di Fano attraverso le immagini amatoriali Quindi un invito anche ad inviarvi nuove immagini? Certo, chiunque possegga dei filmati in Super 8 è pregato di farli pervenire presso lo studio del Bianco oppure presso Fano TV e poi noi insieme traceremo questa meravigliosa storia della città Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.